rieccomi allora continuo con la mitologia seppur faccia meno successo rispetto ad altri tipi di video ma secondo me invece è fondamentale in certi suoi punti per comprendere anche poi le spiegazioni paranormali che a volte do perché gli antichi sicuramente conoscevano molto meglio ciò che è il mondo dell'invisibile rispetto a noi che siamo stati invece plagiati poi dalle religioni monoteiste moderne che si sono aggrappate solo al mero controllo dell'essere umano al guadagno e a tutte le impietà che hanno commesso per cui torno ancora a parlare di mitologia ieri ho fatto il video su ade persefone ade è il dio plutone il dio degli inferi inferi si intende però come dicevo ieri nell'oltretomba proprio di tutto l'oltre quindi la parte buona la parte meno buona la parte punitiva la parte gentile la parte bella paradiso inferno mixati limbo e tutto il resto è tutto lì è la stessa dimensione non ci sono livelli diversi per quanto riguarda l'oltre quindi la quarta dimensione e appunto ade era il capo era il dio supremo dell'oscurità dell'oscurità intesa come sottosuolo non come cattiveria però ade ha ereditato il regno del sottosuolo dopo che suo fratello zeus era riuscito a uccidere il padre crono perché prima prima dell'avvento appunto della vittoria zeus e del dispaccio agli altri due zeus quindi zeus neptunio e zeus appunto ade che aveva diviso la terra il sottosuolo ade i mari a nettuno e i cieli se le era tenuti per lui secondo me perché col canocchiale vedeva meglio dove andare a trombare ma quello è un altro discorso insomma prima però prima dell'avvento della guerra dei titani così viene definita la guerra che si scatenò tra zeus i suoi fratelli parenti vari che adesso non sto a descrivere contro cronos che era suo padre e che aveva spodestato il nonno uranus e che se li stava mangiando tutti i figli ma per fortuna sua zeus viene salvato e da lì scoppia la rivolta zeus vince per questo che lui ha potere decisionale poi di scegliersi quale regno tenersi comunque questa è un'altra storia volevo parlare invece di divinità poco conosciute della mitologia greca che fanno sempre parte del regno del sottosuvolo perché perché i loro incarichi ricordano moltissimo ciò che dal mio punto di vista e dal punto di vista della corrente occultistica che io seguo è molto molto simile a moltissimi incarichi che ci sono appunto nell'oltre da parte di identità semi elevate ma andiamo di mitologia prima appunto che ade divenisse il capo indiscusso il re il padrone dell'averno il popolo del sottosuolo era governato da altri dei che erano dei fratelli diciamo fratelli di cronos quindi gli zii in qualche modo a livello parentale di zeus e figli di uranus e gli dei che comandavano l'oscurità che comandavano il regno del sottosuolo erano due fratelli un fratello e una sorella nix la notte e erebo appunto l'oscurità alcuni taggan tacciano nix anche come figlia di zeus ma in realtà era una sorella seppur anzi neanche era una zia nix erano due zii di zeus e venivano definiti questo tipo di divinità veniva definita protogenos perché erano pre come si può dire erano gli dei sovvarcati e poi abbassati di grado perché spiegarlo a parole facce semplici non è sempre semplice abbassati di grado dopo la vittoria appunto di zeus nix era la notte erebo appunto l'oscurità erebo celava le cose era la divinità delle cose nascoste degli agguati di tutto ciò che avveniva al buio nix comandava sul buio della terra quindi sulla notte il suo dominio durava quindi all'incirca sei ore al giorno il suo regno il regno di nix era il regno della notte tutto ciò che veniva fatto secondo gli antichi greci da svegli durante le ore notturne veniva fatto nel regno di nix nix non si sa bene con chi ma molte volte per autogenesi quindi senza marito senza compare ebbe la schiera di figli che non finivano più ma di questi figli i più famosi i più importanti per la religione la mitologia appunto dell'antica grecia erano tanatos ipnos e care care è meno nominata ma in generale anche lei ha un ruolo abbastanza importante che proprio va a incidere tra l'altro con le due scissioni del del pensiero del destino secondo quello che ho anche spiegato proprio nel mio video dove parlo del destino perché allora intanto c'è da dire che care così come etanatos erano entrambi delle morti delle incarnazioni della morte quindi non il dio dei morti quello era ade loro erano proprio delle morti cioè coloro che andavano fisicamente a far morire le persone che dovevano morire in realtà i fratelli della morte erano tre ma una era morfiforme e cangiante questo vuol dire tanatos era il dio della morte corretta della morte normale della morte per malattia della morte per vecchiaia della morte per un incidente e via dicendo ed era quello un pochino forse più malleabile e misericordioso sotto certi punti di vista a volte anche un po tonto ma mentre invece care era la dea della morte che riguardava solamente i morti in battaglia quindi durante le guerre durante le guerre il potere decisionale di morte spettava a care e non a canatos poi c'era appunto la terza sorella che viene identificata in atropo atropo è anche la più anziana delle parche chi sono le parche le parche sono il destino dell'essere umano mentre tanatos era anche il decisionale del destino lineare dell'essere umano mentre care anch'essa una divinità del destino era quella del destino avverso ma la decisione principale se un destino doveva essere lineare e pulito quindi seguito dalla sovraintendenza di tanatos o se doveva essere un destino turbolento e pieno di inceppi quindi sotto la tutela di care era questa terza sorella atropo perché perché atropo era legata sia ai fratelli e sia appunto alle parche le parche chi erano le parche erano tre le tre divinità preponderanti del destino cioè quelle che il destino lo creavano mentre invece appunto poi tanatos e care erano i due gestori di questi destini che però erano stati creati dalle parche in che modo cloto era la più giovane delle parche cloto aveva un arcolaio e filava dei fili legati tra loro filo del destino filato insieme al filo d'oro dell'anima della persona di volta in volta per per il quale veniva filato il filo d'oro era sempre lo stesso era l'anima più lungo o più corto era comunque sempre atropo a dire come farlo poi una volta che cloto aveva tessuto i fili d'oro delle anime li passava alla seconda parca che era l'achesi l'achesi aveva il compito di intrecciare questi fili d'oro delle anime a degli ulteriori fili che venivano rappresentati come bianchi o neri mescolati il filo nero erano i periodi neri della vita della persona in questione e i fili bianchi erano i periodi invece leggeri anche però in questo caso era atropo a dare le direttive in che modo poi gestissero questi destini invece una volta che erano stati creati e fabbricati sotto la supervisione di thanatos e ker dipendeva proprio dai colori le parti di filo quindi di destino che erano intrecciate tra il filo d'oro e il filo bianco venivano gestite e tenute sotto controllo da thanatos mentre invece le parti di filo dorato cioè dell'anima della stessa persona che erano intrecciate dall'achesi con del filo nero venivano gestite e seguite nel loro andazzo nell'esistenza umana di quella persona da ker infine alla fine di questa gestione quindi creazione tessitura gestione divisa questi fili dovevano tornare in mano ad atropo che decideva dove e quando tagliarli il taglio era l'invito a thanatos o a ker ad andare a prendere quelle anime se il taglio veniva effettuato sul filo bianco thanatos era incaricato di andare a prendere quell'anima se il taglio veniva effettuato sul filo nero era ker a doverla andare a prendere e il tutto funzionava magnificamente bene questi dei anche se diciamo in teoria sarebbero stati i primi dei i pre dei tant'è vero che appunto vengono definiti protogeneso proprio perché erano i predecessori dei poi nuovi dei dall'avvento di zeus come comandante in poi thanatos era abbastanza un buonaccione viene normalmente descritto come un ragazzo giovane molto alto con i capelli lunghi chiarissimi che indossa sempre una tonaca con una cintura alta in vita nera thanatos era un po' un buonaccione e qualche volta si è fatto prendere anche per i fondelli una delle leggende su di lui più famosa anche perché le leggende le storie mitologiche su thanatos su ker su ipnos essendo divinità poco menzionate anche poco conosciute dagli studiosi sono anche difficili da conoscere da reperire una di queste leggende riguarda appunto appunto thanatos che venne gabbato da un essere vivo da un uomo che si chiamava re sisifo questo re sisifo aveva fama di essere un re estremamente furbo e intelligente un po' a paragone con il salomone ebraico sisifo sapeva che sarebbe giunta a breve la sua ora perché un oracolo lo aveva informato allora pensa e ripensa diede ordine alla moglie alla regina di non fare nessun rito funebre nessun funerale diciamo una volta che sarebbe morto la regina obbedì sisifo morì da lì a qualche notte thanatos in persona lo andò a prelevare e lo portò verso laverno verso gli inferi sisifo però non ci stava e si era già programmato tutto allora piangente e implorante verso thanatos gli disse se poteva farlo tornare sulla terra almeno per qualche giorno perché doveva dare disposizioni precise per i suoi funerali perché la moglie era imbranata e non era capace di fargli le esecue tanto piange tanto chiede che alla fine thanatos glielo concede diceva due tre giorni che succede torna indietro e fai le tue esecue soltanto che sisifo una volta che torna indietro col piffero che poi torna negli inferi e torna a regnare sul suo regno allora thanatos passa un giorno passa due passa tre e comincia a puzzargli la storia gli manca quell'anima ce l'aveva in conto poi atropo se incazza pure e va da sisifo dicendogli oh ciccio te eri già di là devi tornare di là ancora grazie che ti ho dato il permesso sisifo cosa fa fa il gentile fa il simpatico lo fa accomodare su una sedia offrendogli del vino prima di andare via insieme fa l'ospite di casa ma quando thanatos è distratto nel bere la coppa di vino lui lo incatena con una catena che gli era stata preparata da alcuni oracoli si era fatto fare in precedenza e lo blocca su quella sedia il problema di base a parte la tontaggine di thanatos fu che una volta imprigionato thanatos che era l'unico addetto alle morti normali alle morti di tutti gli esseri viventi che non fossero dei guerrieri diciamo o che non morissero comunque di morti estremamente brutali bloccato lì non poteva più fare il suo lavoro quindi oltre a non portare più Sisypho giù nell'averno non poteva nemmeno far morire gli altri e sulla terra non moriva più nessuno Ade dagli inferi iniziò a vedere i suoi inferi che cominciavano a spopolare che cominciavano a non esserci più le anime che normalmente arrivavano traghettate da Caronte e anche Caronte stava diventando disoccupato gli stavano cominciando a girare un attimino le balle ah peraltro Caronte era un altro figlio di Nix per lo meno per la maggior parte delle leggende antiche insomma Ade si accorge che c'è qualcosa che non quadra e collegandosi al subalterno quindi a thanatos vede che è imprigionato nel castello di Sisifo allora si incazza come una iena a tre teste come il suo cane va al castello di Sisifo gli dà quattro sberle a Sisifo libera thanatos che povero Cristo è dovuto andare a correre come una biscia per recuperare tutto il tempo perso proprio tra l'allero tra l'allà con la falce con i qua perché aveva un sacco di lavoro arretrato gente che campava oltre i duecento anni e cose del genere e e dopo aver preso a sberle Sisifo lo chiappa per un'orecchia e lo risbatte nell'averno peraltro lo punisce anche e lo costringe a portare un enorme masso su per tutta una montagna a mano per poi far vederselo rotolare di nuovo fino in fondo e dover ricominciare da capo a riportarlo su e questo per l'eternità non perché negli inferi ci fossero le punizioni per i cattivi o per i malvagi ma semplicemente perché Ade gli aveva dato fastidio che aveva preso per il culo un dio e quasi preso per il culo anche lui e quindi era una punizione meramente di vendita personale nel frattempo appunto Thanatos torna a fare il suo lavoro però ecco Thanatos viveva negli inferi e parrebbe che avesse la sua dimora su una sponda del fiume Lete il fiume della dimenticanza il fiume Lete negli inferi nell'averno era il fiume le cui acque facevano perdere la memoria facevano dimenticare qualunque cosa fosse successa in precedenza anche chi eravamo e tutto quanto e venivano chiamate appunto le acque della dimenticanza il fiume Lete poi all'interno del dell'averno c'erano anche altri fiumi c'era lo Stige per esempio che era il fiume delle anime invece che scorrevano al suo interno ed era quello che veniva navigato da Caronte con il suo battello per portare le anime alle porte principali quelle dell'entrata al castello di Ade ma questa è sempre un'altra storia che si rifà anche peraltro alla storia di Orfeo che ho già raccontato qualche tempo fa insomma mi sta venendo uno starnuto starnuto in diretta in diretta no ma in video insomma questo era il compito di Thanatos e in corrispettiva il compito di appunto della sorella Kerr e dei delle tre parche a seguito del comando sul destino principale l'altro fratello che ho nominato prima invece sempre figlio di Nix e tra quelli più importanti dei suoi figli era Hypnos Hypnos era il dio del sonno e era anche colui che regnava proprio nel mondo del sonno quindi era tra gli dèi che avevano i mortali per più tempo all'interno del proprio regno perché il sonno era tra le ore più frequentate nella sua dimensione onirica e questo mi ricollega tantissimo al discorso odierno della dimensione appunto onirica del sogno lucido il sonno e quindi Hypnos aveva però un regno talmente vasto talmente grande da non poterlo gestire da solo allora si tenne per sé il ruolo di far addormentare e far andare far passare nel regno onirico solamente gli dèi quindi a un certo punto dicevi mi sono scocciato di andare in giro per l'universo a far addormentare tutte le creature viventi del cosmo io mi prendo solo i parenti stretti però assumo in carica tre dei miei figli perché anche lui come la mamma ha fatto più figli che conigli e do a loro i tre incarichi preposti della dimensione del sonno questi tre figli erano il più conosciuto in assoluto Morfeo di cui si dice ancora quando uno va a dormire dice mi vado a buttare tra le braccia di Morfeo poi c'era Fobetore e poi c'era Fantasio che erano questi tre il primo appunto conosciutissimo Morfeo faceva addormentare gli esseri umani e era anche il dio dei sogni profetici dei sogni lucidi dei sogni di reale interazione con la dimensione onirica quindi dei sogni lucidi alla fine appariva in sogno quando accompagnava qualcuno appunto in un viaggio lucido in forma sempre umana per lo più appariva con i capelli neri abbastanza sparati anche lui di aspetto abbastanza giovane sempre maschile e accompagnava per un tratto le persone che durante il sonno avrebbero dovuto avere visioni ora colazioni e sogni lucidi quindi contatto con altre entità con altre divinità incontri con i defunti e via dicenda poi c'era il secondo fratello Fobetore era il dio sempre del sonno quindi anche lui andava in giro ad addormentare una parte degli esseri viventi ma per quanto riguardava la dimensione onirica Fobetore regnava sull'incubo il suo mandato era quello di mandare a chi faceva addormentare degli incubi i motivi erano svariati o per mettere in guardia o per dare una punizione perché anche un grosso incubo che ti mette una certa angoscia è comunque una punizione in qualche modo soprattutto per gli antichi che davano al sogno un'importanza estrema cosa che purtroppo al giorno d'oggi va scemando e il suo aspetto caratteristico in questi incubi che lui doveva commissionare quando si presentava anche lui nell'incubo per controllare la situazione perché comunque era sotto al suo controllo era la forma una forma animalesca spesso di una belva per calcare un po' di più la mano con la paura dell'incubo stesso poi c'era Fantasio Fantasio era il più solare dei tre fratelli seppur sempre una divinità dell'oscurità era colui che facendo addormentare la sua parte di esseri viventi mandava sogni fantastici improbabili con cose assurde per svagare la mente e per a volte anche confonderla sempre in base alle esigenze del del capitato in quel sogno alle esigenze da parte delle divinità perché comunque era un lavoro di squadra quindi tutto era collegato tutti collaboravano ecco Fantasio era però quello che poteva sbizzarrirsi maggiormente perché poteva far sognare qualsiasi cosa che non avesse un senso compiuto quindi una cascata che diventava un drago che poi ti dava un mazzo di fiori quei sogni Atkatsum era il fratello astratto della famiglia e la sua peculiarità nei sogni appunto quando si trattava che doveva essere lui a supervisionarli era quella di presentarsi sempre sotto forma di un qualche oggetto loro erano i tre figli di Hypnos che erano stati incaricati di far addormentare le razze viventi ora in realtà sotto di loro poi c'erano dei paggetti tra virgolette e questi paggetti erano appunto entità minori divinità minori che venivano mandate dai tre capi a loro volta perché in tutto il cosmo le razze viventi dormono anche gli animali dormono anche le piante dormiranno anche gli alieni quindi bene o male erano lavoraccio in tre la velodura quindi avevano una schiera di paggetti o divinità minori o entità minori che dir si voglia che venivano chiamati oneroi e venivano appunto mandati dai tre gestori del sonno e del sogno di cui però a capo c'era il papà Hypnos le famiglie della mitologia greca fanno una pipa pura beautiful quindi miti su Hypnos racconti su Hypnos ce n'è ancora meno che su Thanatos perché con l'avvento poi della mescolanza tra la religione greca e la religione romana venne quasi del tutto surclassato da Morfeo stesso fino a far diventare Morfeo il dio del sonno e facendo dimenticare completamente anche i suoi fratelli Fobetore e Fantasio ma in principio era Hypnos che peraltro Hypnos e Thanatos oltre che fratelli erano anche gemelli e si trovano tracce del loro culto anche nei miti etruschi pre-greci e nei misteri orfeici ma questo è per far capire che Thanatos e Hypnos venivano considerati divinità ancora prima che Zeus fosse inventato e tutto il resto delle leggende collegate anche perché le leggende greche sono tutte collegate è la storia di un'immensa famiglia per quello dicevo fa una pipa a Santa Barbara beautiful e Dallas messi insieme di Hypnos è arrivato quasi niente una volta durante la guerra di Troia era che voleva salvare in qualche modo la situazione gli chiese di addormentare Zeus di modo da poter salvare gli Akei da un attacco e Hypnos in cambio gli chiese una ciullata però più di tanto tanto Zeus dormiva poi voglio dire con tutte le purnazze che gli ha fatto Zeus a Hera anche se Hera gliene ha fatte un paio non è che proprio proprio avesse fatto male comunque ho sforato 34 minuti e potrei parlare mancava amoros mancavano tante diche tiche ne mancavano mai tante divinità minori ma ora mi sono soffermata solo su questi che peraltro mi sono particolarmente simpatici perché mi ricordano un po' appunto la dimensione dell'oltre e la dimensione onirica di cui ho parlato in altri video dove spiegavo invece il paranormale vi do la buonanotte di corsa vi ricordo che qua sotto ci sono tutti i link dei vari social che io bazzico un po' più sotto ci sono 3 o 4 delle millemila librerie in giro per il web che invece tengono in vendita i miei libri che sono anche ordinabili nelle librerie fisiche senza nessun problema o ordinabili direttamente anche da me ciao